E' Piemonte in Canto la due giorni dedicata ai cori piemontesi? Sì, dedicata ai cori piemontesi. Ieri abbiamo ospitato la Coralità Giovannine Scolastica al Teatro della Capuccina, sempre a Domodossola, e oggi siamo qui invece con la Coralità Piemontese, quindi cori di estrapolazione popolare, per una giornata dedicata a Domodossola, anche oggi. Quanti cori che partecipano oggi? Oggi sono quattro, che arrivano da Cittù Piemonte, arriva il coro di casa, che è il coro Valdossola, il coro Tessa di Annei, di Torino, I Amis e la Canzon, che arrivano da Asti, e il coro Varade, che arriva da Varalusitia.